Cari amici e cari amiche vi do un grandissimo benvenuto in questo nuovo video oggi non so quando voi lo guardate però oggi è il 26 dicembre quindi il giorno dopo Natale Santo Stefano io sono con la mamma sto in questa posizione per fare il tutorial per riprendere il tutorial per questione di luce e c'è anche guardate chi c'è che vi saluta il mio gattino Dylan però non gioco con lui ma gioco con la mamma che sarà da questa parte terrà le pedine bianche e io le pedine verdi il gioco che vi presento oggi si chiama Otello qualcuno lo chiama anche Reversi comunque è un gioco che è abbastanza famoso di società da tavolo che so essere un gioco anche per il quale esistono dei tornei però io vi dico la verità io non sono una persona che gioca ai tornei quindi vi spiego solo le regole io ci gioco da quando ero bambina vi spiego soltanto le regole e poi per i tornei vi dovete informare in autonomia prima di lasciarvi alla visione del tutorial io come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale a lasciarmi un bel like sperando che il video vi piaccia giusto Dylan si continua a pulirsi e a lasciarmi nei commenti un feedback per farmi sapere se il video vi è piaciuto e anche se avete giocato e come sono andate le vostre partite ora iniziamo le regole del gioco sono piuttosto semplici però quello che è un pochino più complesso è elaborare delle strategie per giungere alla vittoria quella che vedete è la scacchiera diciamo così si chiama hoteliera apposita per questo gioco e si inizia in questo modo le prime quattro pedine vanno collocate al centro ovviamente si aggiudica la vittoria il giocatore che al termine della partita che viene determinata in due modi o non è più possibile compiere mosse oppure sono state messe sulla hoteliera tutte le pedine disponibili per ciascun giocatore che sono ve lo dico 32 a testa in totale ci sono 64 pedine come vedete io tengo le verdi mentre la mamma tiene le bianche il verde ha la prima mossa le prime quattro vengono collocate al centro il gioco procede nel seguente modo si colloca una pedina ogni giocatore a turno colloca la sua e tenta di accaparrarsi cioè di far diventare del proprio colore più pedine possibili presenti sulla hoteliera inizio io vi faccio vedere le pedine che vengono convertite a livello di colore possono essere sia l'importante è che sia in linea retta siano posizionate in linea retta devono essere comprese tra due pedine quindi io in questo momento colloco la mia prima verde qui e giro vedete questa perché era tra due verdi ora aspetta alla mia avversaria la mossa ok guardate vi faccio vedere un pochino le strategie io vi dico non sono un drago però in teoria bisogna arrivare ad accaparrarsi i quattro angoli perché è abbastanza intuitivo il giocatore che ottiene riesce a collocare la propria pedina sugli angoli si prende la maggior parte del tablò ecco guardate io giro in questo caso questa perché è in mezzo tocca alla mia avversaria collocare la sua ecco sì vedete giri anche l'altra che è compresa tra due ecco fatto ok quindi vedete che collocando una pedina si prende due in questo caso pedine del suo colore perché ve ne era una compresa con questa e un'altra tra queste due perfetto procedo io vediamo un po' cosa posso fare perché va un attimo studiato io poi il gioco avete già iniziato a capirlo è la partita completa non ve la farò vedere vi faccio vedere questo momento perché è importante è il mio turno vedete noi siamo a questo punto del gioco e io mi prendo l'angolo questo angolo lo prendo perché non che faccia molto intendiamoci però intanto è un angolo che tolgo al mio avversario che non è male adesso procediamo intanto noi e vi faccio vedere anche questa di mossa perché è interessante guardate io la metto qui non è tanto per il fatto che mi prendo questa fila intera di pedine ma per il fatto che vedete questa fila qui intera così non se la può riprendere lei perché anche qualora collocasse una sua pedina in questa posizione l'ultima è mia quindi questa fila tecnicamente poi chiaramente potrebbe recuperarla scusate in altro modo magari però in questo momento è una buona mossa a livello strategico sì sì vai vai procedi procedi noi procediamo vi faccio vedere qualche scena ogni tanto ecco ecco adesso vi faccio vedere un momento un pochino tattico io devo scegliere vedete e sto decidendo dove mettere la mia pedina guardate se io la mettessi in questa posizione chiaramente mi prenderei tutta questa fila più questa diagonale ma regalerei alla mia avversaria l'angolo perché qui c'è una pedina bianca quindi lei si prenderebbe in automatico l'angolo bianco e tutta la fila quindi io non la metto qui la metto qui mi accontento in questo momento di una sola per il momento facciamo così di una sola però non le offro questa opportunità così vediamo se mi frutta questa scelta vediamo ecco adesso vi faccio vedere questo momento la mia avversaria ha messo questa pedina si è accaparrata un po' di bianche un po' di pedine tra altre cose è diventato suo in precedenza anche l'altro angolo però così facendo cosa ha fatto è l'angolo è mio questo che intendevo dire prima che queste qui adesso vedete questa fila fa premesso che mi sembra di essere in svantaggio adesso non le sto contando però così ad occhio anche perché non è facile andare ad occhio qui bisogna proprio contarle mi sembra di essere in svantaggio però procediamo vediamo un po' il finale vi faccio vedere questa super mossa come dicevo l'importanza degli angoli vedete in quell'angolo c'è la mia pedina verde mi prendo l'angolo opposto al che tutte quelle che sono in mezzo io poi ho le mani non ho le manine d'oro adesso ve lo dico anzi sono una persona molto maldestra quindi ogni volta che giro ribalto tutte le altre però vabbè non state a guardare questi dettagli cerchiamo di tenerli un po' però io non sono una persona molto fine da quel punto di vista ma credo che abbiate capito ecco mi sono presa tutta la la linea diagonale verde adesso vediamo come procede la mia avversaria vi facciamo vedere comunque il finale per mostrarvi poi la vittoria siamo alle mosse finali queste ve le faccio vedere tutte allora io qui la metto qui perché comunque l'angolo è mio e mi prendo tutta questa fila più l'ho messa qui giusto quindi anche quelle in diagonale più questa e anche questa perché sono sempre tutte in diagonale perfetto ok ho fatto un po' di scorta vediamo cosa fa la mia avversaria ok che però l'angolo estremo in alto era sempre mio l'angolo in alto a sinistra quindi credo che tu scopra solo quelle ok ok e io qui devo decidere cosa facciamo facciamo questa eh facciamo questa che questa fila diventa tutta mia in automatico questa fila più adesso vi dico cosa torniamo alla base io l'ho messa qui quindi anche queste che sono comprese tra due verdi e basta finito tocca a lei la puoi mettere sì qui guarda c'è il tuo posticino e ti prendi le due verdi in mezzo siamo alle ultimissime però io sì la metto qui e mi piglio solo questa e lei la mette lì e vediamo cosa prende e adesso le contiamo ok credo che tu abbia qualcosa in diagonale no no perché ah se c'era quella giù ok dunque adesso procedo con il conteggio questa è la fine della partita io conto le mie verdi in automatico saprò quante sono le bianche ok due quattro sei e otto otto e tre undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove venti ventuno ok ventidue ventitere ventiquattro venticinque ventisei ventisette ventotto ventinove trenta e vi annuncio già trentuno trentadue già con trentadue sarebbe pari quindi ho vinto trentatré trentaquattro trentacinque trentasei trentasette trentotto ho vinto perché trentotto alla metà come vi dicevo se sono sessantaquattro trentadue alla metà quindi trentotto ho vinto io non son brava in matematica calcolate voi quante sono le bianche però ho vinto ok la partita è mia io spero che il tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima pubblicazione video continuate a passare delle buone feste e fatemi sapere ciao